Allora, il testo era questo, passarono un dato che dice, l'ocumulo, ho observato due fiche che ho trovato per Helio e Aferlio, perché così le due posizioni stavano a due punto astronomi, sicuro. Come dice, è la 2, e, ademais, si comprende, se ve, a differenza di un anno, di medio anno, precisamente 6 mesi. È la ragione che prima ho menzionato, uno può calcolare 133 giorni, ma anche in medio anno, dependendo delle necessità, perché tanto la differenza di non era nulla cosa particolare. La distanza era apposta, perché, vabbè, generalmente uno se la calcola nel primo esercizio, però, giustamente, seguendo che le spese si necessita la distanza, è un esercizio, non può dipendere di altro, quindi se uno, per una strana ragione, che il esercizio è più semplice, ma non logra calcolarsi la distanza, si incontrava blocchiato nel certo dolo dei massi, e questo non si può. di conseguenza, ok, abbiamo una distanza adjuntiva. Lo dato era, vabbè, il nome della estrella, ABS, normal, tipo spettral, questo ma per curiosità, perché al final non tenia ningún cambio. il movimento di quando si hanno movito le estrellas da, in questo periodo, in sei mesi, debito, semplicemente, per la parallà. La magnitud apparente, il color, ambas affettate, la magnitud apparente, affettata per color, per distanza e redini. Il color, non per distanza, ovviamente, ma per redini, sì. Diccio, se non sarebbe stato un bimben v con lo zero a basso. La realtà è radiale e il movimento proprio. E saranno i dati. E, in caso, l'attra, dipendendo da come uno calcolava, avevano varie situazioni. La descrizione dei dati è anche il Dio Giuliano, perché puse il Dio Giuliano, perché, se vuole calcolare, esattamente, quanti sono i giorni, ha sensibilmente la differenza dei due. Sin embargo, in sei mesi, a metà del anno, esattamente, di conseguenza, 365 diviso 2, sono 82,5. La variazione di medio di anche, 82 o 83 è lo stesso. E si fa il caldo. Ok, l'esercizio del primo, rimuovendo l'effetto, lo demás effetto, la storia del primo, tiene un cambio di posizione delta lambda. Lambda, perché lambda è la longitud galattica, cioè non galattica, la longitud galattica è l, longitud eclittica, e la parallaxia, come si dice, esattamente parallela. Di conseguenza, per dare un valore è l. Questo perché hai che stare al cuidado che questo non è la parallaxia, questo è il doble parallaxia, che era il punto. che stanno di conseguenza attenti. Ora facciamo stop share. E il... Mecola il negro. Quindi io ho faccio... Ecco, se potrebbero essere due cose. O se la media delle parallaxi, cioè della delle delle valore. E per mecola, che cambia poco, perché il parallaxe io ho faccio che il parallaxe è delta lambda medio. perché questo è di quando si muove in 6 mesi per l'orbita, la parallela è in questo angulo. Ora, può essere da un punto di vista che statisticamente tiene un sentito la media delle medicioni che io ho, supongo che la dimensione è molto scurabile, quindi sto medendo la stessa cosa, e quindi sommo tutto e divido per 10 o faccio la parallela per cada uno e sommo e divido per 10. È indiferente, la variazione è veramente molto piccola, perché uno non nota la differenza, di conseguenza, come lo prefere, può essere conveniente sommare tutto questo e tomare la parallela media e di conseguenza calcolarsi la distanza media. Ovviamente media perché è basato nello vario dato. e la distanza è uno sopra la parallela, se questa è medita in arcosecundo, è in parsec, in questo caso è mille arcosecundi, di conseguenza se voglio in mille è praticamente come mille di dividito la parallela in mille arcosecundi, questo perché il, sì, il, un arco secondo è un millesimo, il valore in arcosecundi, di conseguenza se sostituio mi viene mass, ademass perché il, se è mille arcosecundi, l'angolo è mille vesemma cico, di conseguenza la distanza deve venire mille vesemma grande, ovviamente. O se vuole anche se, se io tomo la distanza in kiloparsec, è in mille arcosecundi e in mille arcosecundi, perché il risultato è come mille, semplicemente. E in questo caso, intonse, è la media, ora, vamo a dire... Io tengo tutta la calcolatura senza batteria, perché mai... no, non tengo la... 86, 76, 1... 8, 7, 0, 5, 7, 8, 6, 9, 9, 4, 8, 6, 9, 9, 9, 2... Lo faccio più che tutto per simulare il desarrollo, perché io già se quanto sale... 9, 8, 9, 8, 9, 8, 6, 8, 3, 3, 8, 6, 9, 5, 4, 8, 7, 2, 1, 7, 8, 7, 0, 67... Il delta lambda medio è 0,86, 9, 7, 0, 7, di conseguenza la parallache media è 0,4, 3, 4, 8, 5, 5, 5, 3, 5... L'inverso viene continuato per mille, di conseguenza la distanza media è 2,209, 9, 6, che che, più o meno, era fatti 2.300 la distanza usata per generare i dati. Literalmente ho fatto una distruzione normale del 2.300 per generare. Vede, diciamo, non aveva che prestar cuidado in alcuni dettagli. Uno, che il delta lambda non era data come parallace, ma era come la posizione vista nei due estremi del punto estremo dell'orbita, che è il punto delicato, perché è basato su una metà astronomica, di conseguenza il parsec ha tomato metà di quell'angolo. E l'altro che è miliarchosegundo, di conseguenza se no uno le salia del 2.3 parsec, invece è mili veces más, perché l'angolo è il millesimo, che è il punto del machico. Ok, e di conseguenza, vabbè, l'acca si può ottimare, e sta anche 3.300 onestamente, perché non è il... uno può anche cortare l'acca. Invece praticamente era un po' tanto, un po' tanta cifra significativa. La cifra negativa era un po' tanto. L'altra è, a 2.7 minuti del ciumulo sta la nuova planetara IECI del 0.1, che si espande 90 km per secundi. Per iniziare il ciumulo, di quanto tendrì a variare in arcosegundo il diametro angolare tra le due osservazioni? Beh, noi sappiamo che, di base, la distanza è un'altra distanza di base, dividito in un certo angolo. Dividendo, portanto, ambos, di conseguenza, mi danno la velocità, dividendo una variazione temporale dell'angolo. In questo caso, quello che noi troviamo a interessare è di quando si espande. Teniamo il parametro, diciamo, di quanto spagna radialmente, che è la nostra velocità, quindi questa è radiale. Il corrispettivo è il di quanto radialmente si cresce su radioangolare, che, in questo caso, è quello che noi, diciamo, vogliamo scoprire. Questo, così, informa la generica, chiometrica, di conseguenza, la velocità in quello che è, e la velocità, la variazione angolare in radiante per una certa unità di tempo. e poi si arregla la distanza. Noi, noi sappiamo che, se noi prendiamo la velocità in chilometro per secondo, e la velocità angolare in un arcosegundo per agno, qua hai da che ponere un 1.64. questo si è visto, diciamo, questa costante vale per tutte le situazioni dove si basa in questa relazione, dove una velocità che la mediamo linearmente, e la velocità è vista di quanto grande la dimensione angolare, e se delante. Lo importante, ovviamente, è che la velocità è inscrita la stessa cosa. Sendo che la velocità radiale o di expansione è di quanto crece il radio, la velocità deve essere riferita a quanto crece il radio angolare. Aca hai che stare fidato, perché io la pregunto ha se riferimento al diametro. Ovviamente il diametro cresce con il doble la velocità del radio. Di conseguenza, aca la potremmo girare, questa è semplicemente girarla, in unidad de arcosegundo por agno. Esto, in esto caso, era una distanza in parsec. Di conseguenza, esta in chilometro por segundo e la distanza in parsec. La velocità, come diceva il dato, si espande a 90 km per secondo. 90 km per secondo divido un chilometro per secondo, 90. La distanza è in parsec, 2300 parsec. Divido un parsec, 2300, 0,0, quindi viene 9,230, questa è la velocità, questo è il radio. Quello che a me interessa è il alfa, diametro angolar, è data da la velocità del alfa punto por il tempo. In questo caso, alfa punto è il doble della velocità di espansione radiale. di conseguenza è il dos por teta punto e il tempo è, vabbè, il tempo che ho osservato è metà agno. Questo di sia che possiamo ponere metà agno. il dos, se semplicemente per quello medio, è di conseguenza il, 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 il valore è quell'otro, questo era esattamente in, eh, arco secondo por agno, di conseguenza l'angolo è il, il, di quanto, eh, il delta alfa. Dico che, perché di quanto aumenta il, perché non sapevamo al comienzo quanto era, ma quello che possiamo sapere è di quanto, eh, va a variare il diametro angolare, quindi delta alfa è il quanto varia il diametro, poi il tempo, ed è 9,230 arco secondo, che è 0.04 o 39, tanto, vabbè, arco secondo, un pochino. Esperanza di poterlo osservare, non è tanta. per ora, l'instrumento che è meglio è del 2 centesimo di arco secondo, e di conseguenza, che si logra vedere molto bene la, eh, di quanto si expande, di conseguenza, diciamo, aveva poco che era, per questo era più interessante vedere, logro detectare la expansione? no. Ok. Pogliamo un po' di questo. la seconda è la estrella A, è molto simile a la riga, quindi la magnitudine è assoluta 0, in tutte le bandi, questo vuole dire che anche il suo colore deve essere 0, non importa che colore sia, quanto vale il parametro? la lei di distinzione, l'RV. Beh, l'RV, ho visto che qui siamo, all'inizio, 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 che serve da facerte, nessun tè donna, Adesso mi sono perso il corso. Questo è il... Donde stava? Ah, non è stato assinato come RRI. Ok, aca non mi dico in cuenta che non l'avevo chiamato RRI. Quindi, vabbè, poi voglio vedere come vanno le cose. Perché il... Nella... Non mi ha dato quinta che effettivamente non era... Nella... Nella... Non c'è stato... Questo nella... Slide come RRI. Vabbè... Vabbè... Ehm... Lo voglio considerare di questo momento quando corrico. Ma... L'RRI seria isto? La cosa rara è che nadie se me l'ha preguntando o che non appare sia nella slide. L'RRI è... Ehm... 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 F... Ehm... O... b***h... Ehm... Diccio... Ehm... Che non era... Ok, era... Non era... Non era molto mica clare. Avevo menzionato in classe ma non... E stava ben scritto nella il... come formula. Quello che ho è il... la A tiene una magnitud apparente di 2.06 e un color apparente di 0.1. Quindi 1, questo color deve essere 0, di conseguenza il mi è b-v, è esattamente il b-v che io vedo della estrella meno quello teorico, e di conseguenza è 0.1. Perché il teorico seria 0. Quindi A tiene magnitud absoluta 0 in todas le svaldi. Il... la magnitud apparente è la magnitud assoluta attenuata per tutto quello che hai. Quindi è attenuata per la distanza... E attenuata per l'assorzione. La persona aumentando assoluta è 0 e non è... e non è... e non è... causa problemi. Ma... il modulo di distanza è... 2300 diviso 10... 230... logaritmo in base 10... 2.5... no... 5... 2.5... 4.2... e viene 11.8. Ma... la magnitud assoluta è 12.06... chiede decir... di conseguenza che... la... e... e... la... e... la... e... la... e... e... la... e... in questo caso, meno il modulo di distanze, 11.8 o 100, visto che abbiamo due cifras, o 101 in verità, e di conseguenza mi viene, questo è 5, 20, 18 e 2, 0.25, di conseguenza la distinzione, la razza entre l'absorption e l'excesso del color è 0.25 divinito 0.1, che è 2.5. Per conseguenza non è tampoco esattamente muy regolar la distinzione, non è quella classica 3.1, però vabbè. Questo era Questo è un esploramento che non stava ben scritto nella slide, però sì, se ne ricordo ho menzionato in classe. Il 4, il supervisor, le passò il dato che il momento proprio delle estrellas convergen, il punto di convergenza, a 80.68 gradi del cumulo, del cumulo, del cumulo, dell'ecus. Il dato è corretto. Quindi, in questo caso, questo è un altro, era anche questo, lo chiamato. Ho un metodo geometrico. Ecco, perché si è terminato di interrompire lo share per mostrare lo calcolo. La magnitud apparente è 12.06, il bim è 0.1. L'excesso del color è il color che io observo meno il color teorico, sin enrogecimiento. In questo caso, il secondo è 0. Perché si dice che vega tiene la magnitud mass o meno 0 in tutta la magnitudine. E di conseguenza l'excesso del color è il proprio 0.1 che era il dado. La magnitud apparente nella mass e la magnitudine assoluta è mass debile per distanza e absorzione. Di conseguenza, mass è 5, il logaritmo della distanza diviso 10 parsec, mass è l'absorzione. Di conseguenza, l'absorzione è data dalla magnitudine apparente meno la magnitudine assoluta, che è 0. Quindi, se vabbè, meno 0 si crea lo 6.06, meno il modo di distanza, che è 11.101. Di conseguenza, l'absorzione visibile è 0.25. La regola di estensione è a sovè 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 e b meno di e, di conseguenza, il risultato è 0.25 diviso 0.1 dos.5, che era il valore che era di entregare. Nell'altro, che era sovè la parallaxe del gruppo, ecco, è esattamente questa. Perfetto. Cos'era? Controllare che il dato sia vero vero. Si può essere da una maniera. Io posso calcolare la posizione, perché io ho i altri dati. La formula che tengo a utilizzare è la distanza in parsec è la tangente dell'angolo, si chiamiamolo lambda, per la velocità radiale in chilometro al secondo dividito 4.74 per l'elemento proprio in arcosegondo coragno. Ecco, aca era di nuovo piuttosto che abbiamo esta formula, quello che podemos hacer o usarlo dato, teniamo la vista radial e il momento proprio con l'angolo entregato per calcolarsi con la distanza. Se corrisponde va bene, se non corrisponde il dato esternano o podemos recalcolarne l'angolo e compararlo con l'altro per dire se corrisponde. Hagamo il secondo che da bene così si vedono eventuali errori. Quindi abbiamo questa formula la adquire e quello che otteniamo è che la tangente dell'angolo entre il cumulo e il punto di conversione è dato dalla distanza in parsec per 4,74 è il momento proprio in arco secondo por agno divido la velocità radiale in chilometro proseguto. A questo punto hai che ha servito un parere calcolo e sì non posso minimizzare e non chiediamo minimizzare ma no era ok 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 sono lo vario valore di la velocità radiale come si può ver 27 71 6.063 sono lo vario valore ha che essere la media in questo caso vabbè accade direttamente dove c'è la media ma lo doymo tanto per simulare il mascoletto 23 7 14 15 8 15 per dar tempo uno può evitare di ponere il punto ricordandosi che però conta tutto il millesimo 25 25 7 5 7 20 3 5 9 25 9 6 1 8 18 162 somma 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 20 20 punto 79 58 l'autre 60 53 4 4 5 6 4 7 2 7 4 6 1 6 3 0 3 50 46 4 3 5 4 5 9 5 5 1 8 in questo caso devo ponere 1 0 perché se no 5 3 7 9 12 somma 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 4 91 78 ok tengo questo dos di conseguenza quello che tengo è che la tangente e la distanza divido un parsec quindi 2300 o regresiamo a la pantagna un 4 punto 74 a passare scappato por la velocità e sto però più dato che questa è 1000 per secondo non è lì di conseguenza hai il 4 punto 9 1 7 8 divido 1000 divido la la velocità radiale che è in il chilometro che è il media quella media del sistema che fatti come può vedere questi sono dati ottenuto con la simulazione normal random della la velocità in tutte le direzioni la velocità del cumulo ma molto random di hecho si nota che può variare alrededor di un certo anche bastante perché da 14 31 perché dipende da come è proiettato il acca il 1000 lo simplifico con 2300 entonces 2.3 a questo punto hai 2.3 por 4.74 il touch non è fenomenal 4.9178 20 punto mi saio mano 7 9 5 8 che 12.53 che di dici penso probabilmente facendo lo calcolo hice un error ah no certo justo perché l'abbiamo modificato después recordavo un valore molto ma grande perché l'abbiamo corregito perché questa me ho olvidato di ponere 1000 al comienzo che viene esattamente questo valore che ha che è 2.58 masso meno 5.7 8 che rendo e essendo l'archotangente desto l'angolo viene 68.10 no o 100.78 e il suo supervisor lo invertìò facendo la invece l'altro questo lo preferia uno perché era quello che mi gustava ma además perché se veia dove stava l'error e anche per insegnare che si confronta quando hai possibilità checchare lo dato che le passano perché le può salir mal hai tambien articolos che lo dato sono equivocados hai un articolo direttamente che hanno scopriato un cumulo e si equivocano dalla coordenata se invece tomo il 100.78 particolar nella distanza voglio ottenere una distanza dei casi 5400 parsec claramente un poco ma sagliare di quello che era di conseguenza il sì la cosa era doble manera il check car il se l'angolo che si otteneva era compatibile o che se fosse essendo maniera uno si calcolando se l'angolo o uno mi calcolo l'attanchente calcolo l'attanchente destro e confronto o uso questo dato per calcolarmi la distanza e lo confronto con la distanza che io ho ottenuto da parlare che devria essere abbastante ma precisa di conseguenza io posso dire il dato è incorrecto perché non mi risultano il ultimo a 0.05 la estrella b la gemella del sol è è come il sol la ser g 2 5 tiene la misma massa per questo non le ho dato la massa della estrella simplemente perché ho detto è la gemella del sol è una manera indiretta perché lo puse come un caso real se suppone l'analismo suppongo che sia quello per semplicità suppongo un'orbita circolare così non tengo il problema se quello che sto midendo la distanza è o no la semia che è maggiore sì perché è circolare e intonse inizia a ver quando la frazione del periodo che fu salvata ho salvato 6 mesi per metà anno vuoi calcolarmi quanto è il periodo della estrella perché in questo caso era il calcolo opposto di quell'altro e andava alla questa era la teoria della della dos la parlata di espansione solo che in questo caso invece di calcolarmi la distanza io mi calcolavo il delta teta sobra delta t cioè quanto si espande e in questo caso era esta o ma che todo esta che è la massa generica però in questo caso che si sia l'angolo aspetto l'abbia declinato in un angolo aspetto al plano tangente e complanare di conseguenza l'angolo è uno va il coseno se pone uno di conseguenza direttamente il questo caso la distanza distanza è connesso o come questo ak coseno di uno ma diciamo la quello 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 che interessa a questo punto è ver la l ak la distanza che era in parsec che è uguale a la somma della dos massa in massa solares il coseno di è uno uno sobre la il semiaje mayor della orbita che in questo caso è radio circolare di conseguenza direttamente il lo 0 punto 0 5 0 5 arco secondo in arco secondo alcumo il tempo quadro in agnos in questo caso è comodo usare questa questo trucco del keplero lo teniamo un sistema di referenza che nos permette di conseguenza a ottenere la il tempo in agnos che è comodo perché visto che io so che ho mirato in metà anno è me terrestre è me ottenere il periodo in anno terrestre di conseguenza il allora 05 la massa è 1.5 regressiamo a mostrare la pantagna la distanza è 2300 in parsec al cubo la massa è 1 ma su meglio 2.5 massa solare di conseguenza è una massa solare che semplifica il dividito 0.05 al cubo por il periodo in agno al quadrato di conseguenza il periodo in agno è su al por un agno 2300 al cubo por il 0.05 che è un ventesimo di conseguenza seria moltiplicato per 0 lì ma è come dividirlo por 20 alla 3 e 1 dividido 2.5 si comprende che la cosa non va a essere comoda perché va a essere molto grande questo viene 770 680 agnos io l'ho osservato per metà agno di conseguenza qual è la frazione del periodo che ho osservato la mia ho osservato por metà agno il periodo 780 agno che è 1 su 1560 0.00 64 non hai speranza di poter fare questa cosa onestamente anche perché diciamo in 70 anni si nota in centenari di anni la temana lo tomamo con calma e lo gramo da un siglo a c'è che ha se realmente sono una estrella binaria lamentablemente questa è una delle razone perché generalmente quando si studia estrella binaria su distanza è sempre dell'ordine dell'unità astronomica non è non è extremamente più grande perché non è difficile seguirli perché il acca Si può vedere questa parte, diciamo, considerando la dimensione dell'orbita, se questo cresce molto, il periodo cresce come 1.5 volte quando cresce l'altro. La massa non logra influenzare molto, perché diciamo, le strane più grande sono centenari. Di conseguenza, ed è una massa di 100, molto più grande, perché il periodo è un decimo. Di conseguenza, sì, aiuta, perché magari 20 anni e 2 è più facile, però già 20 è l'ordine dell'umano, 220 riduce qualcosa, però probabilmente non riduce molto. Se la distanza non è tan chica, si prolunga abbastanza. Basta vedere anche nel proprio sistema solar, Pluton, che è alrededor di 30, 40, mi parla di realtà astronomica? Il 40, se semplifica direttamente, il 40 e alla tercera sono il 64.000. La risquadra è 640, che è poco male di 25, 250 anni. Sì, perché il Pluton mi pare che sono 120, quindi a risolvere di Achille. Una certa distanza, una desena dell'entr'astronomica, mi date il tempo poco effettivo. E iniziamo, questa era la soluzione. Che ha tomato un aurito. Ovviamente, sì, al studiante, io già tenendo idea di come... Avendo già studiato tutto, un po' come si è spedito, però diciamo, ho riccio lo calcolo, di conseguenza se il... Eh sì, l'unico, diciamo, problema era con... Il 3 con il RV, che mi pare sia bello scritto, che era la distinzione, si chiamava RV. Sì, e... 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 Sì, l'abbiamo menzionato, perché anche la prova anteriore era stata utilizzata. Perché si parlava che aveva una... Un RV di 3.1, ovviamente che è il classico. Hai... Dudas? Ok. Ok. Entonces, sacca... Ah, io spero che l'abbia gravato bene e non ribaltato come lo sto vedendo.